Sequestro preventivo per un valore di 2,7 milioni di euro a una società catanese nel settore del commercio di bevande. La Camera dei Deputati vota per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale per le donne vittime di femminicidio qualche giorno fa, l'ennesimo triste episodio. L'istituto comprensivo Don Milani di Paternò celebra il giorno della memoria con Giovannino Sparpaglia, 102 anni, reduce dei campi di concentramento nazisti. Alla Don Milani di Paternò l'assessore Giovanni Battista Caruso ricorda il procugino Anselmo Rizzo tra i 44 eroi di Unterlus. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato due minori per tentato furto aggravato in concorso. Annunciate dal Ministero della Cultura le 10 città in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2025, figura agrigento esclusa a Enna. Lunedì sarà collocata nella nuova aria espositiva della chiesa di San Nicolò, l'Arena di Catania, Agata, Ducci, Damori, la fedele riproduzione in porcellana fredda del busto reliquiario di Sant'Agata. Ad Adrano l'ingresso ufficiale del nuovo parroco a Sant'Agostino si tratta di Don Pietro Strano. Biblioteca Comunale a Paternò premio ai bravi di cuore nell'ambito dell'evento di Natale Bambino. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina di cronaca. Sequestro preventivo per un valore di 2,7 milioni di euro a una società catanese nel settore del commercio di bevande. Al suo legale rappresentante e al suo amministratore di fatto, constatata un'evasione su IVA e Ires. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Procura della Repubblica Etnea, hanno eseguito un decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Catanese che ha disposto la misura cautelare e reale del sequestro preventivo per un valore di circa 2,7 milioni di euro ai danni di una società di capitali operante nel settore del commercio di bevande, nonché del suo legale rappresentante e del suo amministratore di fatto. Le investigazioni sono scattate dopo la verifica fiscale eseguita da unità specializzate del nucleo di pulizia economico-finanziaria di Catania nei confronti delle imprese in questione per gli anni di imposta dal 2018 al 2022. Si precisa che attualmente non si è ancora realizzato il contraddittorio con le parti, ma ad oggi sarebbe stato rilevato il mancato pagamento dell'IVA sui prodotti acquistati destinati alla successiva commercializzazione per un valore di circa 3 milioni di euro mediante falsa attestazione del possesso dello status di esportatore abituale, qualità che consente per legge di ricevere fattura senza l'applicazione di tale imposta, e una notevole evasione di imposte grazie al sistematico occultamento al fisco dei ricavi annualmente conseguiti nell'esercizio dell'attività economica tramite la presentazione di dichiarazioni fiscali annuali non veritiere, ovvero dall'omessa presentazione delle stesse. Nello specifico sarebbe stata constatata un'evasione di IVA per circa 2,5 milioni di euro e dell'imposta sui redditi delle società per oltre 200 mila euro. Dunque l'amministratore di fatto e l'amministratore di diritto sono stati denunciati per omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha così disposto nei confronti della società e degli indagati il sequestro preventivo diretto e nella forma per equivalente delle somme giacenti su conti correnti o depositi oppure su qualsiasi altro tipo di rapporto bancario intestato o cointestato o ancora riconducibile alla ditta o agli indagati per l'importo complessivo di 2,7 milioni di euro. La somma corrisponde alle imposte evase ai fini IVA e Ires ed è ritenuta il profitto dei reati di omessa e infedele dichiarazione dei redditi. A causa del forte freddo e dei riscaldamenti spenti per un guasto un'alunna della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo si è sentita male. La piccola studentessa di 10 anni ha cominciato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe soccorsa dalla 118 e stata portata in ospedale per ipotermia. Sul caso è intervenuto Fabio Cirino, segretario della FLCCGL di Palermo che ha espresso solidarietà e vicinanza alla dirigente scolastica Rosaria Corona, alla piccola studentessa, a tutti gli studenti e a tutti i dirigenti scolastici che si sentono spesso soli e abbandonati in trincea a combattere contro le inefficienze delle strutture scolastiche. L'amministrazione sta provvedendo e già da domani riporterà alla normalità la situazione. Ha fatto sapere il sindaco di Palermo, città ovviamente dove c'è questa scuola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Chiesta l'istituzione di una commissione di inchiesta per le donne vittime di femminicidio qualche giorno fa l'ennesimo e triste episodio. Sono già cinque le donne assassinate nel 2023 per mano di ex compagni, mariti o fidanzati. Chiesta l'istituzione di una commissione di inchiesta per le donne vittime di femminicidio. Qualche giorno fa l'ennesimo femminicidio. Sono già cinque le donne assassinate nel 2023 per mano di ex compagni, mariti o fidanzati. Una strage senza fine alla quale dobbiamo porre rimedio. La commissione sarà composta da 32 parlamentari, 16 deputati, 16 senatori. Avrà il compito di indagare il fenomeno per capire quali le problematiche e quale supporto lo Stato può garantire per arginare la problematica. A dirlo il deputato nazionale Francesco Ciancitto, dopo la votazione alla Camera dei Deputati che ha dato il via libera all'istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta, atta a indagare il fenomeno della violenza di genere e nello specifico relativamente al tema del femminicidio. In aula tutti i gruppi sono stati compatti, ottenuta in unanimità con 258 voti favorevoli. La settimana scorsa il testo è stato esaminato dalla Commissione parlamentare Servizi Sociali e Sanità. Sono 120 le donne vittime di femminicidio nel 2022. Le statistiche derivano dai dati del Viminale raccolti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Il 2023 è già iniziato all'insegna della violenza. Cinque le donne uccise dalla mano di un ex compagno, marito o fidanzato. Celebrato oggi all'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò il giorno della memoria con Giovanni Sparpaglia, 102 anni, reduce dai campi di concentramento nazisti. Da diversi anni l'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò celebra nello stesso identico modo il giorno della memoria, il 27 gennaio, che quest'anno è stato anticipato di un giorno, che ricorda l'Olocausto e la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Ospite della scuola è infatti sempre Giovanni Sparpaglia, 102 anni paternese, che è memoria vivente dell'orrore della Seconda Guerra Mondiale e testimone diretto dei campi di concentramento. Sono partito il primo marzo del 1941 e sono rientrato a Paternò il 14 settembre del 1945 e ho la fortuna di potervi raccontare adesso perché ho sfiorato la morte decine di volte e la fortuna mi ha portato invece a schivare la morte e restare vivo. La cosa più importante è ricordarsi, e io me ne ricordo quasi giornalmente, chi non è tornato come me. Io ho quotidianamente il ricordo, e ho portato qui tutti i ricordi di quelli che erano miei amici, ma sono rimasti in Germania. E' una delle cose più tristi che ho fatto, andare dai genitori di un mio amico a Roma, era vicino a casa nostra, e andare dai genitori a raccontare come ho visto morire il figlio che non è tornato e io tornavo. E' stata una delle cose che più tremende ti ho potuto fare. La guerra, già dai tempi di Adam e Devo, Calino ha ammazzato a Bele, quindi è innata nell'uomo. Io sono pessimista, incredulo e tante cose, cercare di sforzarsi e non pensare di poter ammazzare a qualcuno, invece si ammazza. Secondo io, sarà una missione sbagliata la mia, il perdono, il cristianesimo, lo riconosco, però l'innato istito dell'uomo è quello di sbarazzarsi del nemico. Non c'è che fare, quindi adesso ci sarà una speranza che se si riesce a capire che con l'atomica non c'è ritorno, probabilmente stiamo allungando i tempi, ma la guerra c'è stata fino all'inizio e ci sarà sempre. Io sono pessimista. Oggi è una tradizione ormai per l'Istituto Milani avere questa presenza importante, testimonianza diretta che per i ragazzi che ogni anno cambiano naturalmente è un'occasione unica per avere consapevolezza del nostro retaggio, del nostro passato, della memoria che effettivamente non deve mai essere perduta, deve essere sempre tenuta presente proprio anche nella progettazione e nella previsione e nella consapevolezza del nostro futuro. È una testimonianza importante. Il dottore Sparpaglia ogni anno ci prege della sua presenza, anche se è in età così avanzata, ma per noi è una gioia veramente averlo ogni anno e avere la testimonianza sua, che è una testimonianza vivente di prima mano della nostra memoria. E alla Don Milani di Paternò l'assessore Giovanni Battista Caruso ricorda il procugino Anselmo Rizzo tra i 44 eroi di Unterlus che rischiò la vita per salvare 21 condannati a morte. Un gesto eroico che è rimasto nella storia d'Italia, quello che il 25enne sottotenente Anselmo Rizzo di Paternò compì il 24 febbraio del 1945, insieme ad altri 43 ufficiali del Reggio Esercito Italiano, fatti prigionieri dai tedeschi, quando prese il posto di 21 militari che stavano per essere fucilati, fatto che la storia ricorda come i 44 eroi di Unterlus. Dopo Anselmo Rizzo sopravvisse al campo di rieducazione al lavoro di Unterlus fra i più duri della Germania nazista e fece ritorno a Paternò, dove fu professore di lettere presso la Scuola Media Virgilio. Si spense a Roma nel 1968 a soli 48 anni. A ricordare Anselmo Rizzo è l'atto d'eroismo compiuto insieme ai suoi compagni e il procugino, l'assessore del comune di Paternò, Giovan Battista Caruso. A Dellerstorf, loro vengono obbligati a spalare una pista per creare un aeroporto civetta, per far sì che gli alleati bombardassero e perdessero munizioni in questo campo fantasma, in questo campo civetta. Loro si sono ribellati e quel giorno arrivano le SS, per cui su questi 221 soldati ne vengono scelti 21, la cosiddetta decimazione, che dovevano essere fucilati. Quando fecero fare un passo avanti a questi 21, altri 44 fecero un passo ulteriore in avanti per essere fucilati loro al posto di questi 21. Il motivo lo sconosciamo. Fu comunque un atto di ribellione, forse cercavano di proteggere questi 21 che avevano una famiglia, avevano dei figli, e comunque i tedeschi si trovarono spiazzati piuttosto che fucilarli, decisero di trasferirli nel campo di Unterlusso, che era uno dei peggiori campi di concentramento, dove fecero dei calcoli, dovevano lavorare otto settimane e in otto settimane sarebbero morti, perché avrebbero lavorato sempre di più e avrebbero mangiato sempre di meno. In realtà la guerra, per fortuna loro, si conclude una settimana prima di questo epilogo, dei 44 ne muoiono soltanto tre, proprio per inedia, quindi vengono liberati, la loro prima cosa fu correre verso il cibo e pare che il giorno della liberazione altri tre morirono proprio per il troppo cibo che riuscirono a ingerire. L'importanza di questa storia è che loro non la raccontarono subito quando ritornarono, anche perché molti degli internati militari italiani dissero che anche se avessero raccontato non sarebbero stati creduti. Ed era la stessa cosa che dicevano i nazisti, chiunque ritornerà, se dovesse mai ritornare, non verrà mai creduto. Il bello di questa storia è che questi 44 hanno saputo fare un gesto eroico e soprattutto un gesto di amore nei confronti di quei 21 che erano stati scelti per la fucilazione. Penso che al giorno d'oggi nessuno prenderebbe il posto di un altro per essere messo a morte. Esami di maturità 2023 annunciate le discipline della seconda prova previste dal decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valdarita. Seconda prova di latino a liceo classico, matematica, liceo scientifico, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per liceo artistico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, lingua e cultura straniera uno per il linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo, servizi per l'enogastronomia e per l'ospitalità alberghiera. E ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato due minori per attentato furto aggravato in concorso, hanno provato a rubare una moto in sosta, adesso sono ai domiciliari. Due ragazzini tentano di rubare una moto. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza due minori per tentato furto aggravato in concorso. Nella serata di ieri una passante ha segnalato al 112 l'asportazione di un mezzo o due ruote in sosta. Sono così arrivati i due equipaggi che hanno beccato i giovani mentre armeggiavano su una Ducati Monster. I ragazzi, così come riferito dalla donna, cercavano di nascondersi quando notavano transitare una vettura. Gli stessi, nell'esatto momento in cui hanno riconosciuto le gazzelle, sono scappati. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarli trovando il più piccolo in possesso di arnesi da scasso. Il motociclo aveva il blocco a sterzo rotto, la carenatura di velta, il blocchetto di accensione manomesso con i cavi elettrici scollegati. La moto è stata riconsegnata al proprietario che ha riferito pure uno spostamento dal luogo in cui aveva posteggiato. I minorenni sono stati condotti nel centro di prima accoglienza di via Franchetti a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dei domiciliari. La giuria per la selezione della Capitale Italiana della Cultura 2025 ha individuato i dieci progetti finalisti. In lista c'è anche la città di Agrigento esclusa invece Enna. Agrigento continua la sua corsa al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Ministero della Cultura ha reso noti dieci progetti finalisti e tra questi c'è anche il Sé, l'altro e la natura relazioni e trasformazioni culturali che vede protagonista la città dei Templi unica siciliana ad entrare nella short list. Tra le dieci candidate individuate dalla giuria figurano anche a Osta Assisi Asti Bagnoreggio Monte Sant'Angelo Orvieto Pescina Roccasecca e Spoleto a stende invece l'altra siciliana Enna con il mito nel cuore. Esclusione che il sindaco ennese Maurizio Di Pietro non definisce bocciatura perché spiega questa candidatura ha significato da un canto il coronamento di un percorso virtuoso che ha visto negli anni cambiare meglio il volto della nostra città e dall'altro uno stimolo per far sempre di più. Definite le dieci finaliste il prossimo step sarà quello del 20 e 21 marzo in queste giornate ogni candidata dovrà illustrare il proprio progetto alla giuria nelle audizioni pubbliche che si svolgeranno a Roma. Ultimate le audizioni non resterà che attendere l'elezione della città vincitrice alla quale Pesaro già eletta per il 2024 consegnerà il titolo di capitale italiana della cultura 2025. E ora ci spostiamo a Catania dove fervono i preparativi in vista della festa della Santa Patrona. Lunedì sarà collocata nella nuova aria espositiva della chiesa di San Nicolò l'Arena Agata Ducci Damuri la fedele riproduzione in porcellana fredda del busto reliquiario di Sant'Agata realizzato dal gruppo delle cake designers siciliane Risto World Italy. Vediamo. Lunedì 30 gennaio 2023 alle 10.30 sarà ufficialmente collocata nella nuova sede espositiva presso la chiesa di San Nicolò l'Arena Catania Agata Ducci Damuri la fedele riproduzione in porcellana fredda del busto reliquario di Sant'Agata realizzato dal gruppo del gruppo del cake designers siciliane Risto World Italy coordinate da Agata Consoli ideatrice del progetto assieme a lei hanno lavorato Caterina Tarantino Silvia Costanzo Erika Maniscalco Carmen Bonanno di Palermo Flavia Stroscio di Zafferano Etnea Stefania Buffardec di Mister Bianco Paola Origlio di Biancavilla Letizia Disca di Niscemi Rosi Caruba di Caltagirone Antonella Meli di San Pietro Clarenza Marzia Caruso Giussi Capone Anastasia Scaria di Catania Silvana Consoli e Adriana Scarlata di Adrano oltre 5.000 le ore singole collettive di lavoro che hanno permesso la realizzazione di quest'opera unica al mondo nel suo genere in scala reale è stato riprodotto fedelmente il busto reliquiario di Sant'Agata gioielli compresi utilizzando tecniche di modeling flower mentre il materiale principe è la porcellana fredda conosciutissima in pasticceria cake design e allestimenti per i suoi molteplici usi dopo il restauro conservativo l'opera sarà accolta presso la chiesa di San Nicolò l'Arena per decisa volontà di Madiella Gennarino presidente del comitato per la festa di Sant'Agata e Marcello Proietto di Silvestro presidente di Ristowall d'Italy a disposizione di quanti vorranno ammirare un capolavoro di ingegno e fantasia che testimonia l'amore e la devozione per la patrona di Catania Agata Consoli ha coordinato il lavoro di restauro che ha restituito al busto reliquario in porcellana fredda lo splendore originario intervenendo anche sulla staticità di alcuni elementi decorativi che a causa del trasporto e delle vibrazioni era in stato di alterazione difficile e complessa l'opera di restauro durata circa sei mesi è resa si necessaria a causa delle condizioni di umidità che hanno naturalmente interessato il manufatto alterando la vividezza delle tinte al termine l'opera è stata ricollocata all'interno della teca e pronta per l'esposizione in questa prestigiosa sede e ad Adrano questo pomeriggio l'ingresso ufficiale del nuovo parroco a Sant'Agostino si tratta di Donna Pietro Strano la celebrazione eucaristica è stata presieduta dall'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna giovedì 26 gennaio nella chiesta di Sant'Agostino ad Adrano la presa di possesso liturgica di Don Pietro Strano che subentra a padre Salvatore Abate per Don Pietro Strano vicario foraneo del clero adranite un ritorno nella chiesa di Sant'Agostino era stato già vice parroco per tre anni adesso sarà ovviamente il parroco di questa parrocchia che è cresciuta a tanto nel corso degli anni grazie al servizio pastorale di padre Abate si è tenuta una santa messa presieduta dall'arcivescovo metropolita dell'arcidiocesi di Catania Monsignor Luigi Renna a concelebrare anche Don Pietro Strano o padre Salvatore Abate padre portale ed altri esporenti del clero di Adrano ma adesso sentiamo le interviste che abbiamo raccolto con l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna con Don Pietro Strano e con padre Salvatore Abate un avvicendamento un avvicendamento nel segno della continuità con gratitudine per quanto padre Abate ha fatto per questa comunità ma sappiamo ecco che è bene ad un certo punto passare il testimone e certamente Don Pietro continuerà ad amare questo popolo di Dio a tenere unita la comunità ad evangelizzare in un tempo particolare in cui la Chiesa deve essere presente con la sua identità annunciare la parola di Dio spezzare il pane di vita testimoniare ecco la carità ed essere anche fermento nella città di Adrano per una società che si rinnovi sempre più all'insegna della ricerca del bene comune radicando maggiormente soprattutto la gioventù sia sul territorio sia in quella che è la vita cristiana Don Pietro Strano per lei è un ritorno sì esatto è un ritorno giustamente con ruoli e responsabilità diverse ero qui come vicario parrocchiale adesso come primo responsabile della parrocchia è una nuova missione per me quindi in questi mesi che sono arrivato ho già in voglia da conoscere diciamo più approfonditamente alcune realtà e sto conoscendo ancora non è ancora finita perché è una realtà molto grossa e quindi pian piano sto prendendo coscienza del lavoro pastorale delle realtà pastorali che ci sono è comunque una parrocchia quella di Sant'Agostino ad Adrano cresciuta molto bene negli anni esatto sì soprattutto alle spalle della chiesa perché si svolge tutto nella parte verso il cappellone e quindi la parrocchia diciamo la chiesa fisicamente è in periferia però ecco è partecipata è vissuta e quindi c'è una bella realtà ringraziamo il Signore ecco c'è un po' di emozione umana ovviamente da parte sua certo senz'altro siamo sempre sono momenti importanti anche perché veniamo appunto investiti diciamo così ufficialmente di incarichi che ci danno una certa responsabilità il parroco e la voce del vescovo nella parrocchia e quindi tutto quello che fa dalla catechesi all'organizzazione pastorale eccetera e li fa il nome del vescovo quindi c'è una certa responsabilità già da giugno se ne parlava che dovevamo cambiare d'altronde io adesso ho 82 anni e a mese prossimo 83 per cui già da 7 anni sono stato non più parroco ma amministratore parrocciale per cui già si aspettava il parroco non mi aspettavo che fosse Pietro ma avevo una grande apprezzione sono stato felice quando ho saputo questa notizia non la sapevo prima ma l'ho avuto quando è stato nominato però sono felice di aver avuto lui come mio successore biblioteca comunale a Paternò premio ai bravi di cuore nell'ambito dell'evento di Natale bambino organizzato dall'associazione zona franca in biblioteca comunale a Paternò è andato in scena l'ultimo appuntamento per l'edizione 2022-2023 di Natale bambino l'evento di beneficenza organizzato nel periodo natalizio dall'associazione zona franca protagonisti in questa occasione 11 giovani studenti delle scuole paternesi distintisi per particolari azioni che hanno compiuto nel corso dell'anno per il quale hanno ricevuto il riconoscimento di bravi di cuore e con esso una borsa di studio ed eccoli gli 11 vincitori si tratta di Diego Gemmellaro studente dell'istituto Redi vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto qualche anno fa che ha cambiato per sempre la sua vita Diego con grande coraggio e una forza di volontà non comuni ha ripreso in mano la sua esistenza ed oggi è tornato anche a studiare premio anche per Stefano Crupi della scuola media Virgilio e ancora Agata Lucia ha trovato del primo circolo didattico Stefania Consalvo del liceo De Santis Tommaso Pio Rapisarda del secondo circolo Lucia Giordano dell'istituto comprensivo Giubini Colosi Luca Di Stefano del liceo Fermi Marta Parisi dell'istituto comprensivo Don Milani Martina Tanzarella dell'istituto classico Rapisardi Aurora Giuffrida dell'istituto comprensivo Marconi e Maria Pia Padalino dell'istituto russo che nonostante la giovanissima età svolge servizio alla mensa sociale la bisaccia del pellegrino e alla caritas parrocchiale questo è l'evento conclusivo della ottavia edizione di Natale Bambino e anche quest'anno abbiamo riservato ai nostri studenti ai nostri giovani soprattutto quelli che si impegnano in attività di volontariato ma anche nel caso dei più piccoli quelli che fanno comunque qualcosa di buono per i compagnetti insomma a scuola abbiamo riservato per loro una borsa di studio per noi questa è l'occasione per chiudere tutte le attività e per ringraziare soprattutto tutte le persone che ci sono state accanto le associazioni le scuole ma anche tantissime attività commerciali che ogni anno partecipano attivamente per quest'anno i fondi di Natale Bambino sono stati ripartiti tra la mensa sociale l'assessorato ai servizi sociali del comune l'atelier solidale e per sostenere Piero Montalto diversamente abile della città che alcuni mesi fa ha subito l'ampuizzazione di una gamba un grande merito sicuramente va a Francesca Coluccio che ogni anno ecco porta avanti questa meravigliosa manifestazione tutte le associazioni le scuole le istituzioni comunali ci ritroviamo insieme per far vivere il Natale a tutti poi come sapete il ricavato va in beneficenza vengono date delle borse di studio vengono aiutate categorie più deboli c'è un'attenzione importante nella città quindi c'è un fermarsi riflettere e camminare tutti insieme credo che è il modo migliore per santificare e dare un significato importante a quello che è il Natale la famiglia e Paternò è una grande famiglia oggi come vedete scuole associazioni amministrati tutti insieme ecco per fare feste per continuare questo percorso d'amore di unità e di socialità e di disponibilità verso l'altro quest'anno Natale Bambino si archita anche di diversi eventi che sono quelli sportivi sport e solidarietà è un binovio vincente assolutamente sì quest'anno abbiamo lanciato un messaggio abbiamo legato appunto lo sport e la solidarietà è veramente un grande successo perché abbiamo visto tantissimi bambini partecipare le società sportive di Paternò e anche di qualche paese vicino hanno partecipato e devo dire che è un evento abbiamo lanciato un messaggio per il primo anno che la città ha recepito e quindi sicuramente lo ripeteremo per i prossimi anni Natale Bambino come sempre porta una ventata di solidarietà e porta con sé un messaggio chiaro che è quello di pensare sempre a chi probabilmente è meno fortunato di noi e Paternò risponde sempre alla grande grazie a tutti questo è il nostro ultimo servizio si chiude questo spazio con la nostra informazione grazie per essere stati con noi a tutti voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti